La mia uscita con la cheerleader americana, what can I say? Nello scorso episodio vi ho raccontato di come nel mio vecchio college c'era una ed una sola ragazza che tutti volevano conoscere. Alta, bionda, insomma una donna in mezzo a migliaia di ragazzine. Ma come cogli la sua attenzione? Beh, per quello dovrete guardare il video passato, perché oggi siamo allo step successivo, la nostra uscita. Insomma, avete già capito il tipo. Un inizio molto freddo, che è peggiorato così. Che vi devo dire, sono pur sempre italiano. Essendo innamorato della pronuncia americana, volevo farla iniziare il video. Ma il tutto si è trasformato in un momento comico, che ha rotto il ghiaccio. Come faccio in inglese? Una youtuber ritirata? No, non è la mia stanza. Frames of your own stanza, of your old man. No, non è la mia stanza, non è la mia stanza. No, non è la mia stanza.